La musica come mezzo per abbattere le barriere culturali e la discriminazione è questo il messaggio che Zachalicious ha voluto lanciare insieme a Fido Guido con il brano Usuen uscito ufficialmente il 17 marzo. Il singolo è un inno alla musica reggae e alla cultura dei sound system. Al momento il cantante Tarantino è al lavoro in studio per terminare il suo ultimo disco che uscirà nei prossimi mesi. Il 17 marzo è uscito il tuo nuovo singolo intitolato Usuen con Fido Guido, un inno alla musica reggae e alla cultura dei sound system. Come è nato questo brano? Questo pezzo diciamo che nasce dalla collaborazione quasi ventennale perché come ho scritto insomma anche sul post sono 18 anni dall'uscita del mio primo EP, la casa della parrucca dove appunto la prima volta che abbiamo collaborato con il pezzo Angela. Dopo 18 anni abbiamo fatto questo pezzo di nuovo insieme ovviamente in chiave molto più reggae, essendo cresciuti anche musicalmente e tecnicamente si spera che anche la qualità e il testo della canzone insomma sia segnale di questa crescita. Con Guido è un sodalizzo che ancora prima di essere cantanti eravamo amici quindi sono tanti anni che ci conosciamo ed è stato l'occasione, è stato un piacere di nuovo ritrovarlo. Nel singolo c'è una frase che recita, questo suono spezza le catene e butta giù le barriere, qual è il messaggio che vuoi mandare? Allora sicuramente il messaggio è che per me come spero per tutti voi la musica sia un appunto un mezzo per abbattere tutte le barriere che ci sono, sia le barriere di cultura, quelle della discriminazione, insomma unisce la musica alla fine unisce i popoli. Quindi la speranza è proprio quella che con questo suono appunto si riuniscano e si abbattano tutte le differenze che ci sono fra le persone. Come dice un detto dove senti cantare fermati perché non ci sarà mai una persona cattiva quindi dove c'è musica c'è sempre del buono quindi la speranza è quella. Dai tuoi sordi ad oggi com'è cambiata la scena musicale italiana? Più personalmente come dicevo è stata una crescita esponenziale perché ovviamente da quando ho iniziato quasi per gioco sono passati un po' di anni. Sicuramente tutti quelli che hanno iniziato, mi piace nominare soprattutto Bundabash piuttosto che i Club Doco che all'epoca erano ancora Club Doco, adesso Que Pechegno. Insomma tutti quei personaggi che adesso vediamo, chiamiamo mainstream. Prima eravamo lì esordi tutti quanti, io poi avendo vissuto tanti anni a Bologna l'ho proprio sentita sulla pelle questa cosa dei ragazzi che poi adesso invece hanno quello che si meritano. La grafica che accompagna il tuo singolo è stata ideata e realizzata da te e anticipa l'uscita del videoclip, ci puoi anticipare qualcosa? In realtà questo è un pezzo che abbiamo fatto qualche anno fa, prima del Covid, poi per una serie di cose ci siamo dovuti fermare e nel frattempo il video è andato perso perché avevamo realizzato anche il video a Giamaica. A proposito lasciami salutare Lucrezia e tutta la sua famiglia, quindi poi mi sono rimasto con questi fotogrammi diciamo e da quei fotogrammi è nata l'idea di fare l'animazione, anche se poi mi sono reso conto che tutti quelli che fanno appunto questo lavoro meritano il mio rispetto perché è un lavoraccio, quindi vi chiedo solo un po' di pazienza ma arriverà. Dopo l'uscita di questo tuo nuovo singolo quali sono i prossimi appuntamenti che ti vedranno protagonista? Sicuramente sono in una fase creativa, c'è il disco che è fase embrionale quindi inizierò a fare subito la prossima base per la prossima canzone, aspettatevi insomma un disco nuovo, un Zacalicious nuovo con le basi autoprodotte quindi non più basi giamaicane ma basi fatte da me. Lasciami ringraziare chi ha collaborato oltre a Fido Guido ossia Eugenio Venneri che ha curato la parte musicale e l'arrangiamento e poi l'arrangiamento e la finalizzazione del pezzo è stata eseguita dal mio amico Francesco Rubino, poi abbiamo chiuso il pezzo dallo studio Gaudio di Taranto quindi lasciami ringraziare questi tre pilastri che hanno reso possibile questa canzone.